Luca Zanusso, benvenuto a Rugby Channel. Grazie. Partita esemplare la tua. Meno de mezzo. Eri il meno de mezzo virtuale, il resto dei giornalisti erano dubbio tra te e Cattelan, comunque un giocatore sanno là. Allora, oggi Coach Hansel ti ha fatto fare 80 minuti. Per una prima linea è sempre un tabù, nel senso che noi là il lavoro è duro, pesiamo tanto e 80 minuti sono pesanti. Però quando c'è bisogno, bisogna farlo. Se eravamo un pochino corti, mi ha detto 80 minuti e facciamo questi 80 minuti. Sì, così in leggerezza uno dei storici del San Donato. Ascolta, abbiamo visto che hai portato più avanti palla a te, di molti giocatori della mischia, forse il migliore lì in mezzo al campo insieme a Cattelan. Tante volte succede, prendi palla o per una cosa o per un'altra, non ti trovi mai nella situazione per avanzare. Me l'ho messo in testa perché è una cosa in cui dovevo migliorare. Pian piano prendo palla, dico accelero, il peso poi aiuta e andiamo avanti, passo dopo passo. Bene, testa subito diretta verso Mogliano per la prossima del campionato. Giornata quest'oggi che vi ha aiutato con la sconfitta delle Fiamme Oro in casa contro Reggio e Via Dana che si è piegata all'ultimo a Rovigo. San Donava a Mogliano con che testa? Calma, ferma tutto. Allora, intanto c'è la finale del trofeo eccellenza contro le Fiamme Oro domenica prossima alle 3 a Rovigo. Quello intanto è un primo step che ci siamo messi ancora a inizio anno come obiettivo di vincere il trofeo. Facciamo questa, quindi prepariamo questa partita qui. Dopo ovviamente sì, c'è Mogliano che non ricordo più è la da loro. Sì, la da loro. Anche se in difficoltà societario, la squadra secondo me comunque ha carattere, sono giovani, sono buoni e non dobbiamo sottovalutarla come questa, che anche questa qui poteva essere una partita ostica. Però partita dopo partita dobbiamo vincere tutte se vogliamo andare ai playoff ragazzi, una dopo l'altra. Quindi sei finali insomma. Sì, esatto. Tutte quante. Già nella partita di rugby non esiste amichevole, non esistono seconde partite o prime partite. Una partita è una partita. Dobbiamo vincerla e che sia a Calvisano che sia a Punto Mogliano dobbiamo entrare in campo per fare il meglio tutti quanti e portare a casa il risultato sempre e comunque fuori casa, in casa, quello che è. Bene Luca. Allora ci aspettiamo, ti vediamo domenica al Battaglini per il finale del trofeo eccellenza e poi per il campionato di Mogliano. Boga al lupo e continua così. Andiamo avanti dai. Ciao a tutti.